eccoci e bentornati sul mio canale nuovo video informativo giornaliero sul mondo di call of duty come sempre vi invito a lasciare un bel mi piace per supportare questo appuntamento giornaliero torniamo con le guide dedicati alle specialisti di black ops 4 giocabile all'interno di blackout perché in questo video vedremo come sbloccare il nomad me l'avete chiesto veramente a gran voce uno specialista veramente molto ma molto difficile da completare forse il più difficile a pari merito del batteri vediamo che cosa dobbiamo fare prima cosa ovviamente trovare e già qui si va molto per fortuna le pasticche di giuno praticamente sarebbe questa medaglietta che sarebbe poi la targhetta del cane dell'unità k9 che utilizza il nomad nel multiplayer avete visto quel cane quanto cavolo è forte non si uccide praticamente mai bene la sua targhetta che andrebbe attaccata appunto al suo collare è contenuta in una cassa quindi uscirà random e dovremo essere fortunati a trovarla oppure magari a trovarla all'interno di uno zaino di qualche nemico ucciso bene una volta trovata questa targhetta questa medaglietta chiamata appunto le pasticche di giuno dovremo completare due diverse missioni la prima uccidere tre specialisti nemici questo significa che dovremo uccidere ad esempio un firebreak un prophet un seraph oppure un ajax un crash un recon quindi ragazzi sarà molto difficile perché dovremo uccidere ben tre specialisti dovremo essere fortunati che i nemici avranno appunto le skin degli specialisti e poi soprattutto ucciderne tre diversi una volta completata questa missione dovremo finire la partita con la targhetta del cane giuno dell'unità k9 all'interno del nostro inventario in questo modo potremo sbloccare la skin giocabile del nomad come dicevo ragazzi è veramente difficile secondo me una delle più difficili primo perché sarà una fortuna trovare appunto questa targhetta all'interno delle casse e soprattutto essere fortunati di capitare in una partita dove faremo tre kill e di quelle tre kill dovremo killare tre diversi specialisti qui sotto nei commenti fatemi sapere che cosa ne pensate in merito a questa sfida se avete già sbloccato il nomad oppure l'avete trovato ma non siete riusciti a completarlo fatemi sapere chi volete vedere nel prossimo video guida dedicata agli specialisti di black ops 4 giocabile all'interno di black out lasciate un bel mi piace per supportare il tg informativo di call of duty e noi ci vediamo ad un prossimo video